Amici di Youtube, siamo insieme perché vi ricordo l'appuntamento di mercoledì con i vinili. Questi alcuni dei vinili che passerò e che in qualche modo vi devono un pochettino essere da stimolo per ritrovarci mercoledì mattina insieme. In questi giorni di chiusura e di clausura noi cercheremo di tenerci compagnia insieme come sempre alla buona musica. Per cui vi aspetto, ricordo, mercoledì alle 9.30. Ciao!